buon pomeriggio ragazze come state spero bene allora nuovo video che riccio anche oggi come state dunque questo invece che riccio per parlare un po di alcune cose già non volesse un video la mentela solo un video così tanto per parlare un po con voi allora dunque prima cosa devo dirvi come rossetto sto indossando e non ve l'ho detto all'inizio se questo video vi piace mettete un like e di supporto un commento qua sotto e attivate la campanella se vi iscrivete ok niente nulla questo è il rossetto di Yves Rocher vedete questo c'è il marchio di Yves Rocher scusate i cani sottofondo però vabbè questo è il rossettino vedete eccolo qua mi vedo di fronte allo specchio perché mi sono appena fatta le semplicerie per non vedermi un po' è una cosa all'ultirante c'è però vedermi trasandata questa è la maglia che indossato sono questi giorni ed è un 156 matt vedete già si vede qualcosa si credo di si e niente questo è il rossetto che sto indossando per questo video poi ti ho capito che ho questo orecchio vabbè e niente quindi che dire in questi giorni mi sto truccando veramente tanto tranne che quando devo fare i video vabbè niente e stavo pensando di fare appunto un video di trucco in questi giorni non so quando non so come ma ce la voglio fare perché mi piace fare i video di trucco o anche il video mentre faccio colazione con voi perché no mentre mi sveglio e faccio colazione non lo so vediamo e nel frattempo sto usando sempre questa palette qua della extra spai sopì sopì questa qua che è troppo bella è bellissima già i colori sono fenomenali veramente sono molto molto belli ragazzi miei eccoli qua vedete i colori sì sono straordinariamente belli li adoro sono troppo belli li adoro sono meravigliosi specialmente romans e romans è il più che usato questo qua sarebbe vedete questo poi vabbè quando non voglio mettere una matita metto questo nella rima in fiore dell'occhio che sarebbe questo reputativo questo molto bello come colore ma che aurora è bellissimo come colore dovevo usare nei video quando non voglio perché è veramente molto bello mentre a volte anzi poco fa mi ho fatto la semplice sempre con la stessa matita di l'oreal con la mina retraibile e con il pettino suo poi dopo di che ho utilizzato questo come dire questo fissante gel fissante colorato della Douglas vedete già bellissimo mi piace il mio capello è buono e mi aiuta a fissare bene per non far affroscere le mie sopracciglia tutto lì negli occhi non c'è niente perché già si vede anche le mie occhiaie stanno scendendo nei piedi tra poco e proprio no nei piedi non esageriamo più che altro l'uncchiaie nere perché è un collirio però beh niente poi ragazzi miei cosa trovo a dirvi sto continuando a scrivermi le cose aspettate un secondo ragazzi se ci riesco in questa agenda mi sto scrivendo tutte le cose che mi servono per youtube vedete queste ed è comodissima sia per fare le mie idee di youtube che anche per elaborare quello che devo fare a casa ma anche per queste insicure oltre che per youtube vedete questo qua questa agenda che ovviamente c'è sempre il mio c'è sempre il mio sotto mandala no non credo si aspettate un attimo il mandala si vedete questo è un mandala adoro e niente dunque ragazzi ragazzi il video è terminato e ci vediamo in un prossimo video tra lo settino che vi mando in in come dire in miniatura ma anche con l'agenda quindi le cose bene ragazzi like commento iscrizione e un bacio a tutti ciao un bacio a tutti un bacio a tutti ciao